Grazie ragazzi! Per iniziare questo giorno di mobilitazione, non ci basta quello che ci temba, vogliamo di più! Vai! 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno! Sì, non mi aspettavo Francesco! Sono a lavorare sottopagate i psicologi! Per chi lavora qua dentro, eh! Se lo può permettere lo Stato a chi lavora qua dentro! Oggi da che parte state? Da che parte state? Da partire, siete quattro garantie! Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno che prende salari da fame! Oggi bisogna scegliere da che parte stare e dare un segnale a questa città! E i lavoratori, i precari e le precarie stanno dalla stessa parte, contro chi l'austerity non la pagherà mai! E la patrimoniale viene una volta nella vita, la riforma delle pensioni ci distrugge per sempre! Allora non dovete capire da che parte stare! Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città! Perché? Perché una struttura privata non ci vuole prendere! No! 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 Grazie a tutti.